Non vogliamo farti male. E allora perché mi hai aggredito con quel pugnale? Tu ci stavi sparando. Io non sparavo a voi, sparavo a Pike. Non sparo molto bene. Pike ha rubato il denaro anche a te? No. Ha ucciso mio padre. Voglio essere sicura che la paghi. Allora stiamo dalla stessa parte. La legge... L'Arami è diversa da Bento. Perché? Perché ci sono i soldati. Sta arrivando la guerra. Hanno cose più importanti da fare che impiccare Emery Pike. Tutti hanno delle buone ragioni per non impiccarlo. Tutti tranne me. E me? Ora che ho visto come spari, credo che sia meglio che tu rimanga con noi piuttosto che lontana. Fino a Fort Larami con voi. Oh no, credo... Ricorda ciò che hai detto. Hai detto meglio avermi accanto piuttosto che lontana. spero che a te ne diano di più. Non prima di uno scontro. Pensavo fosse uno scambio. Non si sa mai. Specialmente quando uno vuole che accada qualcosa. Tu che cosa vuoi, Ramirez? L'oro? O il potere? Non mi serve molto. Ma tutti vogliamo di più. Magari tu ed io potremmo combinare un affare. No, se rischio di essere ucciso. Al diavolo, saranno almeno dieci. Seguono la nostra pista. Rinnegati. Così presto? Come hanno fatto? Ci tenevano d'occhio da tempo. Io ti avevo avvertito. Tu che conosci la zona, non c'è modo di ripararci senza perdere troppo tempo? Sì, può essere. Allora andiamoci. Kid, non hai notato nulla di strano in questo Redfern? In che senso? Come va a cavallo. Nessun contadino cavalca così. Credi che il ragazzo del canguro stia facendo la guardia da solo per sfogare l'eccitazione? No, non è uno stupido. Parliamo di uno che confonde la realtà con un romanzetto da poco. Questo è vero. Già. Buonanotte. Notte. Voglio ringraziarvi per quello che avete fatto, ragazzi. Non deve essere stato facile. Non è stato come si legge nei libri. Per caso ha visto lo sceriffo Tismun Hunter da qualche parte? No, non si è visto. L'aspettate? Eh sì, deve arrivare. Ma speriamo che venga presto perché l'impiccagione è per domani. Ma noi veramente sapevamo che era per la settimana prossima. Ordine del governatore stesso. Pike verrà impiccato romani a luna, senza sé e senza ma. E per quale motivo? Forse per evitare problemi come quelli di Benton. Andiamo. E adesso che facciamo? Non possiamo permetterlo, questo è chiaro. Dopo quello che abbiamo fatto per portarlo qui... Ma non voglio vederlo impiccato, ne ho viste abbastanza. Per me l'impiccagione evoca soltanto cattivi ricordi. Beh, ti capisco. Eh? Ti ringrazio e... Arrivederci. Arrivederci? Leggerò altre tue avventure. No, non più. Non esserne sicuro. Non sappiamo che cosa ci riserva il domani. È tutto tranquillo. Sembra che li abbiamo seminati. Così disse il pollo nell'astia. Come? Redfern! Al mio paese la distanza più breve fra due punti è una linea retta. E se questa scorciatoia è una linea retta, tu sei un serpente stitico. Adesso. Presto, circondiamoli! Guardi! Va a riprendere Cody! Oh no, cammino! Come va la ferita? Non è niente. Saranno almeno dieci. Ci bloccano qui in cinque e gli altri stanno per prenderci alle spalle. Dov'è Redford? Non l'ho più visto. Gli altri devono essere quasi pronti ad attaccarci. Aspettate. Ricorriamo ad un trucco, quello del finto morto. Quando io cado, fate finta di morire. Copritemi! Dammi la pistola. Vai che ti ha ordinato di uccidermi se non gli portavo il suo fratello. te e quelli che erano con te. Che vuoi fare, Hunter? Te lo dico io. L'unica cosa intelligente è lasciare che tu ci uccida. Cosa dobbiamo fare? Fai come faccio io. Se non sarai molto convincente, entrerò in ballo io. Redford! Su. Recita come si deve. Li ho fatti fuori! Li hai fatti secchi tutti? Sicuro! Sono morti tutti e tre! Vada Frank e digli che hanno portato il suo fratello a Porto Larami. Andiamo! Bravo! Hai talento. Ma non mi hai ancora detto dove si trova Amanda. Devi fare un ultimo sforzo. Avanti, Hickok. Come potevamo immaginare che lo avrebbero impiccato prima? Abbiamo fatto quello che dovevamo. Hickok! È lei che ci ha sparato addosso? Il tiratore scelto. Sì, è lei. Arriva gente a cavallo! Tuo fratello si trova a Port Larami. Già impiccato? Non ancora. Notizie di Hunter. Sta avvenendo qui. Devi andare a Larami. Se mio fratello è già morto, prendi il corpo e seppelliscilo. Ma prima recupera l'altra mezza moneta che porta al collo. E come faccio? Devi farlo. Senza l'altra mezza moneta non sapremo dove è sepolto l'oro della missione. È ora di andare, passa parola. Ronald! Ce ne andiamo! D'accordo. Andiamo! Dai, vada! Attento! Così si rompe! Vieni a darmi una mano! Arrivo! Non posso farcela da solo. Ecco, mi ecco. Hunter mi ha giocato. Lo credo. Giochi male a carte e giochi male con lui. Se succede qualcosa a mio fratello, vi ucciderò tutti e due. Vedo solo un paio di uomini. C'è qualcosa che non mi convince. Io ho paura per il tuo braccio. Perché non rimani qui seduto ad aspettarci? Non ci penso nemmeno. Vengo con voi. Andiamo. Lui lo lasciamo qui? E dove vuoi che vada? E' pronto? Sì, è pronto. Ehi, Gas, che stai facendo? Ho preparato tutto. La ragazza deve essere là dentro. Cody, tu vai dall'altra parte. Non far uscire né uomini né animali. Kid, ce la fai a salire sul tetto? Lo portano fuori! Jack, vieni a vedere! Signore! Le sue ultime parole. Finalmente! Eri Lopai! Già! Kenny, vai a casa! No, voglio venire anch'io! Via, via! Tu la sei lunga, eh? Dov'è Tyler? Tyler, vado a chiamarlo. Forza, sali e non far storie. Andiamo, ragazzi. 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 Heacock, aspettate! Dove vai? Ragazzo, ecco fatto. Beh, per Pike è finita. C'è, anche per Amanda. Non è qui. E ora che facciamo, Tispo? E ora che facciamo, Tispo?